Contro il diffondersi a macchia d'olio del gioco d'azzardo patologico in Toscana, la Regione ha inserito nel suo piano d'azione una campagna informativa dal claim Quando la vita è un gioco è in gioco la vita, con brochure, affissioni nelle strade, su bus e tramvia, sui quotidiani, sui social e anche in radio. Obiettivo della campagna, finanziata con 180.000 euro di fondi ministeriali, contrastare una piaga che compromette la salute e fa perdere soldi, lavoro e spesso anche la famiglia. Perché la Regione ha deciso di finanziare questa campagna di comunicazione? Perché è una delle azioni che rientra nel piano che noi abbiamo approvato contro il gioco d'azzardo e perché il tema della prevenzione è una delle linee d'azione principali di questo piano che abbiamo varato con una delibera del 2018 e sul quale abbiamo investito circa 3 milioni di euro. Una linea di azione che lavora fortemente sulla prevenzione, che non è fatta solo di una campagna di comunicazione, che ha appunto come claim quando la vita è un gioco è in gioco la vita, ma anche lavora sul logo no slot che metteremo su tutti quegli esercizi commerciali, circoli, che avranno deciso di fare una scelta etica, cioè quella di non ospitare al proprio interno giochi dalle macchinette, dalle slot fino ad altri giochi e insieme a questo tra le azioni di prevenzione c'è anche tutto il lavoro che noi stiamo facendo nelle scuole, anche attraverso la collaborazione di tante associazioni che ci aiutano a diffondere il messaggio per il quale il gioco spesso non è una cosa casuale o indifferente, ma corre il rischio di diventare molto spesso una vera e propria patologia. I dati dell'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, dimostrano che la prevalenza dei giocatori patologici riguarda dallo 0,5 al 7,6% della popolazione toscana e che si gioca prevalentemente nei locali pubblici, nelle case private e online. L'aumento del numero delle persone che si rivolgono ai nostri servizi, anche tramite l'attivazione del numero verde che abbiamo attivato e che è un canale diretto che può essere agito e può essere attivato con grande rapidità, ci dicono che tante persone in più si rivolgono ai nostri servizi, quasi il doppio dell'anno precedente, il 2017. Questo è sicuramente un dato che ci allarma sulla quantità di persone che possono essere affette dal gap, dal gioco d'azzardo patologico, ma è anche un dato che può dirci che sempre più persone si rivolgono ai nostri servizi, quindi escono dall'anonimato, prendono coscienza e consapevolezza di avere un problema e si rivolgono ai servizi che possono aiutarli a rispondere a questo loro problema. Questo è un dato sicuramente positivo. Si rivolgono meno diffidenza, si rivolgono di più ai nostri servizi, si diffonde sempre di più la comunicazione in questo senso. In Toscana si stima che siano a rischio di gioco patologico circa 13.000 adolescenti, anche perché tra i giovani i comportamenti problematici legati al gioco sono più diffusi rispetto a quanto lo siano tra gli adulti, ma il problema riguarda anche le persone anziane. Il dato è importante sicuramente nella classe giovanile dove i maschi sono quasi il doppio delle femmine, ma via via che l'età cresce vediamo che diminuisce invece in senso inversamente proporzionale, diminuisce la differenza tra i due sessi. Quindi in realtà ci sono tanti giovani, ma cresce il numero degli anziani e nella fascia delle persone più avanti con l'età diminuisce anche la differenza tra uomini e donne. Quindi insomma un fenomeno che corre il rischio di affliggere fasce di popolazione sempre più basse. Per questo motivo la Regione ha creato una sezione apposita dedicata al gioco d'azzardo patologico sul proprio sito internet e poi c'è anche un numero verde 800-88-1515 in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 per mettere in contatto chi vuole uscire dal vortice del gioco d'azzardo con psicologi e psicoterapeuti, perché quello che si delinea in Toscana è un vero problema sociale. Anche i nostri cittadini toscani giocano e spendono molto delle loro risorse, non solo economiche se mi si consente, ma anche sociali, di socializzazione, di capacità di essere soggetti positivi e non rinchiusi nella dipendenza da gioco come avviene in altre regioni. Abbiamo un dato che ci dice che le generazioni più giovani però stanno un po' migliorando, questo dato di ARS, questo è importante ed è il motivo anche che spinge a fare campagne di comunicazione, perché riteniamo che l'informazione e la prevenzione sono uno strumento imprescindibile e forse il più utile per ridurre la possibilità di giocare, di accedere al gioco come se fosse una soluzione ai propri problemi, ma soprattutto per informare che il gioco può diventare a tutti effetti una dipendenza. Nell'ambito della campagna della regione toscana, poi, è stato anche creato il logo No Slot a disposizione di tutti i locali e degli esercizi pubblici che decidono di non installare le macchinette per il gioco, lecito, convincite in denaro. A creare dipendenza, spesso, è l'idea di cambiare la propria vita con una giocata. L'idea che si gioca, che giocano d'azzardo solo le persone con risorse economiche importanti è un assunto certamente che non risponde alla realtà. Purtroppo il gioco d'azzardo attraversa non solo tutte le classi di età, ma anche tutte le classi di reddito e molto spesso le persone con redditi più basse sono anche quelle che hanno una predisposizione maggiore al gioco d'azzardo che diventa per tante persone il modo più rapido per cambiare la propria condizione di vita al di là dell'impegno, al di là dello studio, al di là del lavoro. Quindi molto spesso, purtroppo, il tema del gioco d'azzardo affligge anche le classi economiche più basse. In Toscana, nel 2017, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la raccolta di denaro da gioco è arrivata a 4 miliardi e 800 milioni di euro con una spesa pro capite di circa 1300 euro, record provinciale a Prato dove la spesa a testa è stata in media di 2948 euro. Non c'è nessun meccanismo che favorisca la vincita, tutto è fatto da statistica, non esistono i numeri ritardatari, nel senso che i numeri dentro il boss sono sempre 90 e quindi quando si tirano su, sempre 1 su 90 sono, che quando si acquista un gratta e vinci non c'è nessun meccanismo per il quale quel gratta e vinci sarà quello vincente perché ce ne devono essere vincenti per legge ma nessuno sa qual è il meccanismo e anche quando si gioca alla slot è vero, ogni tot giocate si vince ma non c'è nessun meccanismo per il quale tu sia davanti a quella slot nel momento in cui potrai vincere. Un grande apporto arriva anche dal terzo settore, dal mondo del volontariato impegnato anche sul versante del contrasto al gioco d'azzardo. Noi comunque lavoriamo con il terzo settore sul fronte generale delle dipendenze non solo sul tema del gioco d'azzardo, per noi è un partner indispensabile per la presa in carico e la risposta insieme naturalmente ai nostri servizi perché il terzo settore, il mondo dell'associazionismo, del volontariato lavora in strettissimo collegamento con i nostri servizi per le dipendenze e sono per noi un partner fondamentale sia nelle azioni della prevenzione perché in tante scuole noi andiamo attraverso le associazioni di volontariato sia nella risposta non solo di urna ma residenziale laddove il fenomeno sia così grave da richiedere una risposta di tipo residenziale. Quale messaggio dare dunque per disincentivare il gioco d'azzardo patologico? Quando la vita è in gioco ci si corre il rischio davvero di giocarsi la vita come dice il claim. Quando si corre il rischio di immaginare la vita come un gioco dobbiamo essere consapevoli che la vita stessa è un rischio pesante perché il gioco d'azzardo patologico non coinvolge solo il singolo ma è una vera e propria patologia di carattere sociale coinvolge fortemente le famiglie, mette a rischio il lavoro, la casa tutto ciò sulla base del quale le persone costruiscono e fondano la propria esistenza il rapporto con i figli, il rapporto con la propria famiglia quindi il messaggio è di fare grande attenzione perché spesso non è solo un gioco ma spesso invece mette la vita in gioco.